Il Valencia ha una lunga tradizione nel coltivare i migliori talenti del calcio spagnolo, e Javi Guerra è un altro nome in questa lista. Il centrocampista di 21 anni ha rapidamente superato la squadra B del Valencia e si è affermato nella squadra titolare, disputando 36 partite nella scorsa stagione, contribuendo con 4 gol e un assist. Forte e con una buona statura, la Juventus crede che possa essere un buon rinforzo. Tuttavia, il Barcellona appare come il favorito per l'acquisto di Javi Guerra. Oltre al Barcellona, anche il Napoli è interessato a prenderlo. Quindi, la Juventus dovrà competere con entrambi i club per riuscire a ingaggiare Javi Guerra. Il costo dell'operazione è di 25 milioni di euro, tuttavia, la concorrenza potrebbe far aumentare il prezzo. Credo che non sia un buon affare per la Juventus. E tu, cosa ne pensi?